A.J. Salerno, nata in 1989, quindi da ben 25 anni, a una convenzione all'università dal 2001. Infatti noi oggi abbiamo una sede presso l'Ufficio Relazioni Internazionali e ci occupiamo di incoming e autogom, quindi ci occupiamo di tutta la mobilità internazionale che attiene non solo al progetto Erasmus+, ma anche a Erasmus Mondus e a tutte quelle attività di integrazione culturale organizzate dall'Unione Europea. Per quanto riguarda gli incoming, il nostro primo servizio attiene all'housing, quindi troviamo una stanza, un appartamento per il nuovo Erasmus e cerchiamo di farlo integrare all'interno del apparato burocratico universitario e ovviamente anche all'interno di quelle che sono le difficoltà legate alla cittadinanza salernitana. Per quanto riguarda invece gli outgoing, favoriamo lo studente italiano sia nella scelta dell'università, sia nella scelta del percorso di studio e quindi degli esami che può svolgere all'estero, ma anche in tutte quelle che sono poi le difficoltà di carattere organizzativo per un percorso di studio presso un'università straniera. È ovvio che le nostre attività non si fermano qua, perché l'Erasmus Plus o Erasmus Plus, come dir si voglia, che oggi come oggi prevede nuove mete in tutto il mondo, si aggiungono ad ulteriori progetti di carattere universitario e non. Con conferenze, seminari, training, tutta una serie di novità che sono ovviamente sponsorizzate dall'Unione Europea. L'attività dell'associazione non si ferma qui, infatti anche molti sono gli eventi ludici organizzati, molti sono anche le gite che cerchiamo di portare a termine per gli Erasmus, in modo tale che uno studente straniero non si fossilizza all'interno di una realtà esclusivamente salernitana, ma possa anche vedere le bellezze dell'intero Stato. Stato.